Nel Fight Club non era questione di vincere o perdere, non era questione di parole. Quelle grida isteriche erano raptus estatici, come quelli in una chiesa pentecostale. Quando il combattimento era finito, niente era risolto, ma niente importava. Alla fine tutti ci sentivamo salve. Ehi, alla settimana prossima. E se è il mese prossimo, capisco, sì. Il nuovo è arrivato, anche tu.